Domani, giovedì 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica, una data memorabile per l'Italia che proprio nel 1946 usciva dalla Seconda Guerra Mondiale. Era il 2 giugno del 1946 quando un referendum istituzionale indetto a suffraggio universale chiedeva di esprimersi sulla scelta della forma del governo. Tra Monarchia e Repubblica l'Italia scelse la Seconda. I numeri parlarono chiaro. 12.718.641 voti della Repubblica contro i 10.718.502 della Monarchia. La Festa della Nazione prima della Fondazione della Repubblica veniva celebrata la prima domenica di giugno, anniversario della concessione dello Statuto Albertino. Solamente nel 2001, su impulso dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi, il secondo governo amato, con la legge numero 336 del 20 novembre 2000, riportò la celebrazione al 2 giugno che divenne nuovamente festivo. Ricorrenza vuole che ogni anno le istituzioni locali portino una corona di alloro sulla tomba del milite ignoto per ringraziare colui o coloro che donando la propria vita hanno difeso la patria. E proprio in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, nel 2010 a Villa Bonviglia da Grigento, al capo dell'ufficio di gabinetto del sindaco del Comune di Favara, dottoressa Etta Miglioto, è stata consegnata la pergamena di merito relativa all'onoreficenza concessa dal Presidente della Repubblica che gli ha conferito il titolo di Cavaliere del Lavoro.